Anche con Francesco ci siamo divertiti perché abbiamo pescato nel nel mondo militare. Lui non aveva più la divisa da forestale però c'è sempre qualche accento militare. Questa camicia qui è una camicia vera degli anni sessanta americana ed abbiamo tinta invecchiata. Questi sono i colori suoi, verno, marrone e blu.